Ciao, mi chiamo Maria, io ho 21 anni. Sono di Almata, ex capitale di Kazachstan. Adesso questa è Astana. La mia patria è famosa, la sua mella è grandissima in tutto il mondo. Si chiamo Porto. Il suo cosmodromo bohcanur è la sua natura bellissima. Adesso ho finito il militare. La ho studiato fare quello. Anche, come voi sapete, studio all'Istituto Italiano di Cultura, perché io voglio partire in Italia. Anche io lavoro alla Roma, alla cucina. Mi piace sport, noto. Nel tempo libero, mi piace leggere o fare cartoni, come primi cartoni con matita e foglia. Mi piace andare al concerto rock con i miei amici. Io ho Topo in casa. Si chiama Cipa. E questo è tutto. Ciao. Ciao.